Buonasera a tutti, da Maria Lucevilla e dal team di Rete Informatica Lavoro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato anche in collaborazione con la Rete Informatica Academy. State entrando pian piano, quindi aspettiamo qualche istante prima di iniziare. Nel frattempo, come sempre, vi chiedo se mi sentite correttamente e se mi vedete. Grazie mille. Intanto vi saluto per chi mi scrive in chat. Perfetto, ottimo. Bene, vedo che qualcuno sta già utilizzando le reaction che trovate qua sotto, quindi questa sera magari le utilizzeremo di più. Perfetto, quindi ogni giovedì organizziamo questi webinar tecnici gratuiti e sempre più spesso incontriamo consulenti o professionisti anche di grandi aziende del settore informatico. Questa sera siamo di nuovo insieme Entity Data Italia, è un importante player del settore informatico internazionale che sicuramente conoscete. Sicuramente qualcuno di voi era presente ai precedenti webinar, con loro abbiamo affrontato diverse tematiche. Siamo partiti dal primo webinar con i microservizi, abbiamo parlato poi di Salesforce e di SAP. Tutti questi eventi li potete ritrovare sul nostro canale YouTube o sul nostro sito Rete Informatica Lavoro nella sezione webinar, che è una sezione nuova finalmente. Questa sera invece ho il piacere di presentarvi Paolo Villa, Wix and Service Design Lead di Entity Data, che chiedo di invito sul nostro palco virtuale, così almeno lo conosciamo. Benvenuto Paolo a questo nuovo vostro appuntamento. Grazie a voi per avermi ospitato, un piacere. Speriamo il collegamento sia a posto, perché in caso dobbiamo disattivare il video e vedremo soltanto la condivisione. Bene Paolo, ci puoi fare un riassunto di cosa vedremo questa sera con te? Sì, se vuoi già anche caricare o spiegarmi come far vedere la presentazione caricata, perché era nelle prime slide. Di cosa vorrevo parlarvi oggi? Anzitutto mi presento, sono Paolo Villa, la design lead, quindi mi occupo di interaction e service design, sono un progettista, non faccio grafica, mi occupo di esperienza utente, tant'è che il mio background è un background tecnico, sono un ingegnere, sono un ingegnere infatico. E ho perfetto, quindi posso andare avanti io? Sì, sì, tranquillamente. E di cosa volevo parlarvi oggi, mentre che man mano entriamo tutti? Volevo parlarvi di una tematica che è estremamente interessante, che è come le persone di fatto prendono delle scelte, come da progettisti, indipendentemente dal lavoro che fate, perché qualunque persona crea un'interfaccia, a un certo punto prenderà il ruolo di progettista, possono andare a influenzare i comportamenti di queste persone, con dinamiche che non sempre sono le più chiare. Quindi faremo un po' una carrellata da questo punto di vista. Ok, perfetto, bene. Quindi prima di lasciarti la parola, come sempre vi chiedo cortesemente di fare le domande soltanto nella sezione domande e Paolo vi risponderà nella parte finale del webinar. Per altre domande risponderò io direttamente in chat. Ci aspettiamo quindi vostre reaction a riguardo, perché comunque sarà un po' pratico, cioè farai vedere degli esempi, giusto? Giusto? Sì, esatto. Oltre... Esatto, sì, sì. Perfetto. Quindi io vi lascio, buon webinar a tutti, lascio la parola a te Paolo. A presto, a dopo. Grazie. Come dicevamo, quello che vorrei che vi portaste a casa alla fine di questo webinar è il poter poi applicare certe cose durante la vostra vita lavorativa. Quindi cominciamo parlando di pensiero razionale. Siamo tutte persone razionali, siamo tutte persone che agiscono in maniera razionale, eppure ogni tanto ci troviamo per fermarci e dire, ma dannazione, perché sto facendo questa cosa? E uno dice, ma sono una persona razionale, sono una persona che prende decisioni sofisticate, perché ogni tanto non funziono? È una questione interessante e per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto una disciplina che è quella della behavioral economics. È una disciplina che è nata dall'economia e dalla psicologia e che studia l'influenza di alcuni fattori, che sono quelli psicologici, emotivi, culturali e sociali, principalmente, su quelle che sono le decisioni economiche individuali. E noi questi studi li estrapoleremo anche per il resto. Quindi, di fatto, è un po' come l'economia classica, però a parte è un presupposto diverso. Cioè, che quindi le persone non fanno per forza scelte veramente interazionali. E adesso cercheremo anche di capire perché e cosa per noi questo va a indicare. Parliamo quindi di come si fanno delle scelte in un attimo, quando poi magari ce ne si può pentire per il resto del tempo. Perché quando parliamo di noi, in realtà io non parlo solo di tutti noi, ma parlo che all'interno di ognuno di noi ci sono in realtà due entità diverse. Perché noi siamo un pochino più complessi. Il nostro cervello è un organo molto sofisticato e per riuscire a sopravvivere deve, nel corso dell'evoluzione, nel corso dell'evoluzione ha dovuto immaginare questa strategia. In realtà, qui nella nostra testa, ci sono due sistemi diversi, che si occupano di cose estremamente diverse. C'è quello che si chiama il sistema 1, che è un sistema che agisce in fretta e automaticamente, con poco o nessuno sforzo e nessun senso di controllo volontario. Quindi le attività che fa il sistema 1 sono attività che non possono in alcun modo essere bloccate. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non sono attività poco sofisticate, non sono attività dozzinali, sono attività magari che richiedono anche un certo grado di coordinamento o un certo grado di attenzione. Semplicemente quello che succede è che il nostro cervello riesce ad andare un pochino col pilota automatico. Contraltare di questo sistema 1 e controllore di questo sistema 1 esiste il sistema 2, che è un controllore che viene definito pigro, perché non agisce ogni quanto dovrebbe, però è un controllore che ogni tanto prende e comincia a dire, no, ok, indirizziamo l'attenzione verso alcune attività che la richiedono davvero. E quindi entra, diciamo così, in campo nel momento in cui ci sono da fare delle cose che richiedono focalizzazione, attenzione, presenza. Perché questo sistema non entra in campo tutte le volte che dovrebbe? Perché è un sistema estremamente costoso. È un sistema che per tenerlo vigile il nostro corpo spende tanta energia. Quindi se il nostro corpo è progettato per risparmiare energia il più possibile, fa intervenire questa parte del cervello in minor tempo possibile e si affida al sistema 1, che comunque è un sistema che non è così male, per tutto il resto. Quindi, giusto per essere chiari, il sistema 1 è quello che viene usato mentre camminiamo, parliamo coscientemente con un amico e mangiamo un gelato tutto insieme, per chi di noi riesce a fare queste tre cose insieme. Il sistema 2 invece interviene quando decidiamo di focalizzare la nostra attenzione su qualcosa, come fare dei conti, conti un po' difficili, magari a mente, oppure comparare il valore di due prodotti. Oppure è un sistema che prende piede nel momento in cui dobbiamo imparare qualcosa di complesso, come per esempio guidare. Ma una volta che abbiamo imparato a guidare, il sistema 1 subentra, nel momento in cui siamo esperti, per guidare all'interno di strade conosciute, magari senza traffico. Ci può capitare che a un certo punto stiamo guidando e riprendiamo coscienza di noi e diciamo, ok, aspetta, qui come sono arrivato qua, in maniera automatica, col sistema 1. Il sistema 2 invece interviene nel momento qua, nel momento in cui lo stesso guidatore trova a affrontare condizioni un po' avverse, tipo piove, la visibilità si riduce, le macchine cominciano a spuntare, improvvisamente la nostra attenzione si focalizza e cominciamo a stancarci. Come passiamo quindi da uno all'altro? è un po' complicato dire come passiamo da uno all'altro, perché normalmente noi siamo in stato uno, possiamo decidere coscientemente di muoverci in stato due e di focalizzare la nostra attenzione, ma questa è una cosa che non ci interessa oggi, perché chiedere alle persone da sole di mettersi a ragionare in maniera più sofisticata non è qualcosa che possiamo fare, oppure possiamo intervenire per fare in modo che le persone vedano qualcosa, capiscano qualcosa, si trovano di fronte a una situazione e questa situazione li obbliga andare in fase 2, in sistema 2, scusate. Una volta che abbiamo parlato di questa cosa però la domanda è ok, però com'è possibile sfruttare questa conoscenza nella progettazione di interfacce e sistemi informatici? Cioè nella progettazione dei nostri compiti, perché alla fine quello che siamo qua a raccontarci è come fare a fare in modo che le persone facciano le cose come diciamo noi. Nel caso specifico delle prossime esempi che vi farò, per esempio, arrivino alla fine di compiti complessi all'interno di un sistema che abbiamo progettato senza creare errori, perché è quello il problema. Quindi oppure anche solo arrivare fino alla fine senza abbandonare nel metto. Primo caso, è il caso più facile da raccontare, è il caso più classico, è il caso per cui esistono delle professioni tipo la mia, prendere per mano chi può rimanere in stato 1 e accompagnarlo in stato 1 fino alla fine del processo. Cioè fare in modo che la persona dall'inizio alla fine del processo rimanga tranquilla nel suo stato 1 perché la sua attenzione ha diritto di metterla da qualche altra parte eppure riesce a fare tutto correttamente. Questo per esempio è il caso della usabilità. Quando si parla di un sistema facile, un sistema usabile, è perché stiamo lavorando in quest'ottica e non è qualcosa di banale. Per esempio, chi di noi ha visto l'avvento dell'iPhone, probabilmente ha notato che l'iPhone è stato il primo telefono che è uscito che non aveva un libretto di istruzioni. E perché non aveva un libretto di istruzioni? Perché metteva in piedi tutta una serie di tecniche per fare in modo che le persone riuscissero a fare quello che volevano fare e anche se sbagliavano, vabbè, non importa, mi sono divertito lo stesso. Quindi, che strategie abbiamo per accompagnare per manina le persone dall'inizio alla fine? La prima è sfruttare i modelli mentali. Ora, sui modelli mentali si possono aprire delle conferenze. Cerco di farvela semplice. I modelli mentali sono rappresentazioni astratte e personali che le persone si creano sul mondo esterno e su come queste cose funzionano. Quindi io mi creo un'idea base su come le cose dovrebbero funzionare. Giusto o sbagliata, ma me la sono creata. Secondo me quella macchina di caffè funziona così. Quando le persone si approcciano ad un oggetto, queste caricano il modello mentale che si aspettano e si aspettano quindi che le cose vadano come per loro è corretto che vadano. Questo significa che se ho una maniglia come quella classica, lunga, io mi aspetto di poterla prendere e abbassare. Se ho una maniglia invece di quelle un pochino più tonde, mi aspetto o di girarla o di tirarla, ma sono due cose estremamente diverse. Ok? Io non mi aspetto con la maniglia ormai di poterla semplicemente tirare. Perché il mio modello mentale di come funziona con la maniglia è la prendo, l'abbasso e tiro. Cosa vuol dire questo? Bella teoria e oggetti pratici, però cosa vuol dire nel nostro caso? Vuol dire che se io ragiono su un'interfaccia o su degli elementi che sto andando a progettare, devo garantire di fatto due cose. La prima è la consistenza. Per cui se una cosa funziona in quella maniera da una parte, all'interno del mio sistema, dovrà funzionare alla stessa maniera dall'altra. Questo non è così banale da raggiungere, perché c'è sempre qualcuno, a special altro cliente, che è più figo fare così perché non usiamo questo oggetto, eccetera. Il problema è che le persone hanno già imparato che questa cosa funziona così e quindi si aspettano che la cosa funzioni così. Questo significa anche che se l'hanno imparato da un'altra parte, per cui su tutto il resto dell'internet, per esempio, si aspetta che funzioni così anche da noi. E quindi dobbiamo per forza star dietro, altrimenti le persone faranno errori, ma non è colpa loro, in quel caso è colpa nostra. L'altro aspetto di questa medaglia è l'utilizzo corretto di quelli che sono gli elementi all'interno del design. Se un menu a tendina, un drop down, è fatto per funzionare in una certa maniera. Se io immagino che un menu a tendina, clicco, lo apro, seleziono un'opzione, quella faccia in automatico, vado verso un'altra pagina, sto sbagliando, perché il modello mentale corretto di quell'oggetto è seleziono, poi cliccherò un pulsante. Questo è importante. Quindi utilizzare sia la consistenza che il correttamente quelli che sono gli elementi. E questa è una scusa che potrete usare nel momento in cui vi chiederanno di usare un elemento male mentre lo state, insomma, progettando, programmando. Il secondo punto, per esempio, è impostare una chiara gerarchia visiva. Cosa vuol dire una chiara gerarchia visiva? Vuol dire che, specie quando le persone sono in sistema 1, non è che stanno lì a leggere tutto quello che stiamo raccontando. Se io non metto ben chiaro quali sono i punti più importanti all'interno di un contenuto, le persone non lo faranno per me. Per cui, quando vedete questo esempio, è chiaro, non c'è scritto niente, ma è chiaro dalla parte destra che ci sono dei titoli, ci sono dei blocchi di contenuto che sono diversi l'uno dagli altri, ci sono delle immagini collegate a quei blocchi. Cosa che a sinistra non si vede. E non ho scritto neanche una parola. Questo è importante perché la prima approccia che una persona ha a qualunque contenuto, a qualunque schermato, a qualunque pagina, è molto di questo tipo. E quindi una gerarchia visiva dei contenuti almeno mi garantisce che sto indicando alla persona che cosa deve andare a leggere per davvero. Questo è un altro esempio, un esempio gran classico delle forme. Le forme hanno una letteratura dietro su come devono essere fatte per mantenere una gerarchia estremamente forte, in cui, per esempio, il concetto è che se io ho più colonne, per me è difficile capire cosa viene prima e cosa viene dopo, e quindi posso tranquillamente andare verso una colonna sola. Ci metto di meno a compilare la stessa form messa su una colonna sola che compilare la stessa form fatta su più colonne con una sbagliata gerarchia visiva. Qui stiamo parlando di contenuti e non stiamo parlando di niente di nuovo perché la gerarchia visiva dei contenuti è una cosa che esiste da secoli. I giornali ne sono un chiaro esempio. Io devo riuscire a vedere da lontano che cosa è il titolo del giorno e poi, una volta che ho capito che quella cosa mi interessa, la vado a comprare. Quindi qua stiamo parlando di contenuti. Nella realtà non è solo sui contenuti che possiamo agire con una chiara gerarchia visiva. Vi voglio fare questo esempio. Questo è un oggetto che normalmente non vedete, è un pezzo di una progettazione che aveva fatto anni fa per un sistema di controllo traffico ferroviario, quindi nessuno di noi ha esperienza a utilizzare questo oggetto. Eppure, nel momento in cui vi metto di fronte a questa schermata, normalmente tutti voi sapete che per andare al passo successivo devo cliccare sul bottoncione verdino azzurrino chiaro, bello pieno. Questo perché? Perché l'oggetto che mi sta prendendo per posizione ma soprattutto per forza visiva, l'attenzione mi richiama, ok, quella è la roba che devo cliccare per andare avanti. Nell'esempio di destra c'è anche un altro pulsante che è quello vuoto dentro, scuro dentro. Quello lì è un pulsante secondario. Nessuno direbbe beh, per andare avanti devo cliccare quel pulsante lì. Difatti viene utilizzato per fare il pulsante back e quindi il pulsante che è la naturale evoluzione del mio contenuto lo faccio visibile, uno solo, visibile, so che l'utente farà le sue cose e poi senza pensare cliccherà lì e andrà avanti. E quindi siccome l'ha fatto senza pensare, se è il vado avanti non gli sto creando nessun problema. Un'altra strategia è ridurre la complessità e il numero di passaggi, sia a livello di interfaccia, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho dei dati di un cliente o di un utente e gli sto richiedendo su una forma per conferma, glieli precompilo, così non deve stare lì a riscriverli, che per esempio con meccanismi di autocompletamento, autosuggerimento, quando comincio a scrivere lo correggo o precompilo i dati in base alla parola che vuole scrivere, oppure vi prego fatelo nel momento in cui devo inserire per esempio una data, le date hanno formati di ogni genere, tipo le persone usano i formati più vari e fantasiosi, bloccarlo con magari uno scriptino che io inserisco solo delle cifre e quello me lo mette nella formatazione corretta. Oppure, e questo però è un pochino più sofisticato, un po' difficile da fare, la validazione dei dati che ho inserito prima di fare per esempio la submission, quindi di inviarli, per prevenire un errore. Quindi se io ho bisogno di una password che sia otto caratteri, con un carattere speciale, un carattere numerico, caratteri maiuscolo e minuscolo, e posso controllare che la password sia scritta giusta nel mentre che l'utente la scrive, non devo aspettare che lui faccia clic, ok vado davanti, no c'è un errore, dov'è l'errore, qui lo vado a trovare, è un casino. Quindi questo è sicuramente uno strumento che si può fare, sia a livello di interfaccia, e questo però è la cosa più difficile, sia a livello di flusso. In generale quando vi trovate di fronte a un sistema, a un problema che vi chiedono di realizzare, una delle domande che faccio per professione e che invito chiunque a fare è sempre quella di, ma è davvero necessario chiedere tutti questi dati nello stesso momento? La risposta del sistema è davvero coerente con le esigenze di utenti oppure si può semplificare. Questo perché? Vi faccio un esempio che mi è capitato l'altro giorno a lavoro, stavamo ragionando su un chatbot per cui un'interazione testuale, io scrivo il chatbot dall'altra parte mi risponde e quando arrivo a un certo livello mi indirizza una persona vera. Per fare dei preventivi sull'installazione di alcuni contatori della corrente, a fare il preventivo fatto giusto devo chiedere a un utente che vuole installarsi il contatore un sacco di dati, tipo il numero del contratto, tipo il vattaggio esatto che serve per il contatore, vattaggio credo che sia, tra 20 possibilità a disposizione. Quindi l'interazione con quell'oggetto era abbastanza sofisticata, cioè per sapere che il contatore mi costava tra i 150 e i 300 euro devo rispondere a 8-10 domande. Quando è stato il mio momento di rimodernare casa ho parlato con il mio architetto e ho detto quanto mi costa fare questa cosa? E lui mi ha detto ma una cifra che vada qui a qui, mi basta. Siamo davvero sicuri che l'esigenza dell'utente sia così dettagliata che richiede un processo così complicato o un processo così sofisticato e dà un terzo numero di dati in modo da dargli la risposta che davvero ha bisogno. Perché probabilmente, nel caso dell'esempio che vi ho fatto io, una cifra spannometrica che tanto è sempre quella era la cosa che sarebbe servita. Ciò detto può succedere che ridurre la complessità, dare una gerarchia visiva su capire dove cliccare e non dall'altra parte, usare il corretto modello mentale, quindi quegli oggetti li devono essere usati così, li abbiamo usati tutti, può non essere sufficiente. C'è un ultimo passaggio che è quello, fornire strategie di recupero quando si fanno errori. La più grande innovazione che ha inserito Google Mail è stata l'annulla nel momento in cui cancellavi una mail, per sbaglio. Questo perché? Perché capita normalmente, io giro all'interno delle mail, mi sto cancellando 5, la sesta che sono cancellato, non dovevo davvero cancellarla, però ero lì che cancellavo, ero in serie, banalmente sono andato avanti dritto, ero in stato uno senza problemi, in sistema uno senza problemi. L'errore l'ho fatto, sono riuscito a tornare indietro. Perché? Perché c'era la nulla. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quindi io, facendo così, riesco a mantenere l'utente in sistema uno dall'inizio alla fine, portarlo fino alla fine, anche se lui magari cercherà in tutte le maniere di creare dei piccoli casini e di farlo senza errori. Però può succedere che ci siano delle volte in cui questo combasti. Perché abbiamo un secondo caso, cioè quello di forzare le persone ad entrare in stato 2 e obbligarle a metterci testa. Quali sono i casi in cui dobbiamo fermarci e dire no, ok, adesso vale la pena che l'utente che sta facendo il lavoro sul nostro sistema abbia l'inconvenienza di doversi veramente svegliare, metterci testa e fare le cose giuste. Non è banale quello che stai chiedendo quando fai così. Hai esigenza di farlo quando le conseguenze delle sue azioni possono essere disastrose. Non posso annullare una cancellazione, la cancellazione va a toccare n persone, la cancellazione è irreversibile e porterebbe a possibilità dei danni. Non posso fare in modo che tu prendi una decisione di quel tipo senza veramente essere sicuro che tu sia in sistema 2. E questo come si fa? Si fa per esempio chiedendo l'azione di svolgere un'azione cognitivamente onerosa. Questo è interessante, è un esempio di MailChimp. Nel momento in cui c'è la cancellazione di un report, un report è qualcosa di importante perché nel momento in cui lo cancellano non lo recupero più, è un report su una dem, su una newsletter, è qualcosa che poi serve a livello di marketing. Io non è che clicco dovevo cancellarlo, ok, è cancellato. Chiedo all'utente di scrivere la parola delete per confermare. L'utente la scrive, fa delete, allora lo cancello. Questa operazione è difficile abbastanza da far scattare la persona in sistema 2 e quindi farlo rendere conscio di quello che sta facendo. Quindi riduco la possibilità di errore. Ha un costo enorme questa azione a livello cognitivo, però perlomeno ho ridotto le possibilità di errore. Posso chiedergli quindi un'azione cognitivamente onerosa, un CAPTCHA, fare una somma, fare quello che volete, oppure, e questa è la cosa più divertente che mi sia capitata nel mondo del lavoro, posso chiedergli di fare un cambio di ambiente. Che cosa state guardando? State guardando quello che è il layout tipico di una console di due operatori che si occupano di traffico ferroviario. Quindi le persone che adesso tutta la remoto gestiscono i treni, li fanno arrivare in orario, li fanno prendere la strada giusta, eccetera. È un pochino, come dire, sovraffollata. C'è tanta roba sopra. C'è tanta roba anche però per un motivo. Perché? Perché tutti quei schermi che vedete non sono lì per forza, per un caso. In particolare ce n'è uno, che è questo, che è uno schermo dedicato, che ha proprio la sua tastiera, il suo mouse, il suo computer, che viene utilizzato per azioni che sono estremamente complicate e che hanno un impatto potenzialmente molto dannoso, sia in termini di persone, perché se investe una persona che sta sui binari, che in termini di attrezzatura. Quindi, siccome queste persone stanno lì per sei, otto ore al giorno a sorvegliare il traffico e a fare delle azioni, a un certo punto devono prendere cambiare e cominciare a fare un'azione estremamente sofisticata, la soluzione migliore che è stata trovata, ma che è proprio la soluzione migliore a proprio livello ergonomico, è di farli alzare, spostare verso un altro computer, entrare su un altro computer e fare l'azione da lì. E questo lì sveglia, mettiamola così, li fa entrare in sistema 2 e riduce drasticamente il numero di errori. Questo è creare delle difficoltà in fin di bene. È stato stranissimo quando me l'hai raccontato. Non sempre si può fare, non sempre è la soluzione giusta. Ok, quindi, di cosa abbiamo parlato fino adesso? Abbiamo parlato di strategie normali, stiamo parlando di usabilità, no? Stiamo parlando di qualcosa che serve per aiutare le persone ad arrivare alla fine. Ma in realtà possiamo anche non fermarci qui quando parliamo di influenzare i comportamenti delle persone. Perché? Perché se ci facciamo prendere un po' la mano e cominciamo a immaginare di mettere davanti alle esigenze degli utenti che stanno utilizzando il nostro sistema, esigenze aziendali, esigenze economiche e gli scrupoli li mettiamo nel nostro cassetto, possiamo scoprire qualcosa di nuovo. Possiamo scoprire quelli che sono chiamati i dark pattern. Cosa sono i dark pattern? Dark pattern, o quindi come si chiama adesso deceptive design, sono interfacce e processi progettati accuratamente e specificamente per indurre nelle persone comportamenti utili, ma non alle persone, ma a chi il dark pattern ha progettato. Quindi stiamo parlando di manipolazione. Stiamo parlando quindi di qualcosa che è difficile da evitare, che riduce le opzioni disponibili all'utente che sta usando il sistema e che inducono comportamenti che sono contrari agli interessi delle persone. Tipicamente l'obiettivo di questi dark pattern è aumentare i profitti e ridurre le periti di un'azienda. Perché ve ne sto parlando? Per due motivi. Uno, perché i dark pattern sono tipo il male assoluto del nostro secolo e secondo perché il problema dei dark pattern è che non sono nati immaginandosi di fare un'azione esattamente così, come dire, maligna. Sono nati come delle belle scuse oppure dei bei pensieri per ridurre i problemi aziendali che poi hanno preso la mano. I dark pattern sono quindi una cosa da prendere leggera. In realtà sono anche segnati o comunque sono anche affrontati a livello europeo nella GDPR, per cui nella legislazione che va a raccogliere quelle che sono le esigenze e i limiti che le aziende possono, devono usare quando agiscono sui nostri dati. Perché quando si parla di dati di privacy i siti raccolgono sempre dati non necessari dei propri utenti al fine di profilarli e di comunicare o più facilmente vendere tali dati a soggetti terzi, anche solo a Google per fare gli analytics. Le tecniche tipiche che si usano nei dark pattern in questo modo sono, che so, per esempio, facilitare l'iscrizione un servizio, ma rendere difficile o impossibile la cancellazione. Tutti noi abbiamo un account su Amazon, immagino. Buona fortuna a cancellarlo, perché potete sloggarvi da Amazon, potete non entrare più su Amazon, ma cancellare fisicamente il vostro account, penso che ci saranno delle guide su internet, perché è la cosa più difficile che potete immaginare. Tipicamente poi si chiede anche dati personali, facendo credere agli utenti che siano necessari per il servizio, quando in realtà non lo sono. Tanto che ci sono, ti chiedo dove abiti, perché vale di più il tuo dato se lo vedi. Oppure metti fretta al consumatore per fargli fare un acquisto non utile. Ultimi quattro capi. Questa cosa ce l'hanno anche i negozi quando fanno i salvi, no? Ultimi capi, ultimi salvi. È la stessa cosa trasportata. Oppure possono giocare col peso visivo degli elementi. Vi ricordate l'esempio che ho fatto prima del pulsante che quello lì è visibilissimo, io clicco lì senza pensare, per far cliccare però in automatico alcune opzioni piuttosto che altre, che tipicamente non sono l'opzione più safe e l'opzione che mi fanno andare avanti. La GDPR ha cominciato a occuparsi per carità di questi temi. Era anche in maniera interessante, perché sono andato a prendere alcuni pezzi della normativa, per cui il consenso dovrebbe essere prestato mediante un atto positivo, inequivocabile, col quale l'interessato manifesta in posizione libera, specifica, informata, no? Di accettare il trattamento dei dati personali. E se il consenso di interessato è richiesta attraverso i mezzi elettronici, è richiesta di essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso. È bellissima scritta così. Il problema è che non è così che viene gestita. Vi faccio un esempio. Questi sono come adesso vengono raccolti i dati, diciamo le preferenze per i cookie. Per cui abbiamo a cuore l'autotrivacy, abbiamo il privacy per non importante, vi faccio vedere anche questi che sono comunque aziende non piccole, il giornale e il corriere, rispetto alla sicurezza della nostra priorità. E poi il pulsante che accetta di vendere tutti i tuoi dati e tutta la tua vita a dei broker è bello, chiaro, preciso. Il pulsante che ti dice più azioni o preferenze, magari secondario, non accettare qui è questa roba piccolina qui, che si capisce poco, oppure qua in alto dove normalmente c'è la X. Ma questo non è cosciente, non è che tutti fanno così perché tutti hanno deciso della cosciente. E che il problema è che siamo arrivati a un momento in cui, a un certo punto, per lavoro mi hanno detto, ah, mi raccomando, bisognerà aggiornare i cookie, il box di richieste dei cookie, perché adesso per essere compliant con la GDPR deve avere il bottone chiudi in alto a destra, il pulsante per l'accettare in basso a destra a sinistra, in basso a destra molto visibile e se io clicco il resto della pagina si chiude. No, per essere compliant con la GDPR devi essere rispettoso nei miei temi. Siamo arrivati già a dire che compliant con la GDPR è questo oggetto qua, che comunque, nella migliore delle ipotesi, mi fa cliccare su accetto e vendi i miei dati personali quando non penso. Vi faccio vedere alcuni casi di dark pattern che sono stati un pochino più famosi, e ve lo dico perché così sapete di cosa si tratta e sapete per cortesia di rimanerne fuori, perché comunque secondo me è un tema su cui si può discutere. Per esempio una tecnica di dark pattern molto utilizzata è quella del bait and switch. Cosa succede in questa tecnica? Succede che quando gli utenti agiscono aspettandosi ragionevolmente un risultato su un oggetto, quindi caricano un modello mentale corretto, il sistema risponde al risultato opposto. È stata molto famosa questa schermata che era quella dell'update di Windows 10, e ci sono caduto anch'io anni fa, che funzionava così. Tu potevi fare l'upgrade, potevi cliccare ok, io potevi cliccare la X per chiudere il pop-up. Peccato che cliccando la X per chiudere il pop-up non è che chiudevi il pop-up, facevi partire il download, che è una cosa che non è la funzione del chiudere il pop-up. Quindi questo è un esempio chiarissimo di un dark pattern che ha creato Microsoft, che non è esattamente la prima azienda che c'è, perché a un certo punto aveva problemi con l'aggiornamento a Windows 10 dei suoi utenti, perché gli utenti non aggiornavano. Secondo caso, il confirm sharing. Ah, questo è bellissimo, perché è far sentire il colpo dell'utente per obbligarlo a scegliere un'azione piuttosto che l'altra. Due lingue è diventata famoso, perché quando tu te ne vai o quando non ci sei c'è il gufetto tutto triste, due lingue è l'app che ti aiuta a imparare lingue, c'è il gufetto tutto triste che ti accoglie e dice perché sei stato via, e dici ma che cacchio vuoi, sei un gufetto di un'applicazione, perché mi stai rompendo le scatole, ma di fatto mi sta dicendo, mi sta facendo leva su un mio senso di colpa. Oppure si può andare in maniera più forte, no? Per cui a un certo punto Gmail, quando diceva fai una switch sull'ultima versione di Gmail, sì lo voglio, no, non voglio un'email più smart. Oppure sì, voglio il disconto, no, no, io voglio il prezzo pieno. È chiaro che nessuno vuole il prezzo pieno. Se stai facendo così, mi stai mettendo in colpa per scegliere un'azione che è mio diritto a scegliere, cioè non avere lo sconto perché mi scrivo la tua newsletter, per esempio. Terzo, questo è il caso tipico di tutti, di gran parte di, no, di gran parte di sistemi di concertistica e di museali e di parte dei negozi online. Lead and cost, quindi i costi nascosti, la brutta pratica di inserire alla fine il processo di acquisto dei costi che sono inaspettati e mai comunicati. Il problema non è i costi, perché io capisco, tutti quanti capiamo che sono dei costi di gestione, il problema è che me lo comunichi alla fine, quando io ho già in mente un prezzo, arrivo alla fine, è qualcosina di più, mi obbliga a dire, vabbè, sono già arrivato fino a qua, faccio il passo in più, pago questi due euro in più per, che non sono pre vendita, ma sono commissioni di servizio. E ripeto, il problema non è la commissione di servizio, il problema è che in tutto il ciclo di acquisto io ho questi due euro e trentacinque, li ho visti per la prima volta qui, l'ultima, la penultima riga prima del pulsante che mi fa uscire i soldi dal conto corrente. Legato sempre in amico economico, il quarto dark pattern è il price comparison prevention, cioè quindi impedirmi di fare la comparazione di prezzi, è quando un negozio rende difficile la comparazione tra oggetti simili per non far prendere scelte informate. In questo caso tu hai il prezzo al chilo e il prezzo in unità, e questa cosa non mi fa per me capire quale delle due mele mi costa di meno. Che anche qui è una cosa veramente ridicola, perché questo è Sainsbury, però in Italia si è se lunga che la Lidl, quindi ho preso il retailer che vende di più al metro quadro in Europa e il discount che però ha un sacco di premi come supermercato dell'anno, non si fanno certamente questo problema, mettono in qualunque maniera al prezzo anche io e ti fanno tranquillamente fare la comparazione. Quindi è un po' gratuito ogni tanto l'evitare di farmi comparare. Anche qui il problema non è che io poi non possa comparare in questa schermata, è che devo farmi dei conti a meno e quindi diventa molto difficile. Ultimo dark pattern, quello della misdirection. Quindi progettare per focalizzare l'attenzione dell'utente su un elemento per ristrarre la sua attenzione dal vero oggetto della richiesta. E qui invece le regine sono le compagnie aeree che cercano di infilarti dentro qualunque servizio e qualunque costo durante tutto il processo di acquisto di un biglietto che manco fossero dei pirati. Questo qua è un esempio molto interessante, per esempio questo schermate che ho trovato, una volta scelto il biglietto il sistema dice abbiamo scelto una sedia per te e io non te l'ho chiesto e questa cosa mi costa 4 dollari e 90. Vado avanti nella schermata scrollando in giù e ho, mi fa vedere quindi sì che ci sono le spazio extra per le gambe eccetera, extra addizionali 0, continua con 0 extra addizionali? No, perché continua e mi porta a dare l'ok al fatto che hai scelto la mia sedia per 5 dollari. Perché skin, se c'è questo piccolo link qua in basso uguale a tutto il resto che vedete. Questo perché i dark pattern comunque che funzionano, perché prendono e spostano le persone a fare le cose che il designer vuole sono il male. Perché stiamo parlando di persone? Stiamo parlando di persone che non sono stupide, che capiscono quando sono presi in giro e che reagiscono a questa cosa. Ci sono delle conseguenze quando si prende in giro gli utenti. Il fatto che non li vediamo di persona non vuol dire che gli utenti non capiscano quello che sta succedendo. E soprattutto è estremamente irrispettoso. Perché sono male? Perché si sfruttano dei buchi legislativi per il tornacompo di compagnie e non delle società. È chiaro che qui stiamo parlando di cose che se fatti da un negozio normale arriva la guardia di finanza, ok? Non sei un negozio normale c'è un buco legislativo. La tecnologia si evolve molto più velocemente della legge. Quindi dire rispetto alla legge è un po' basso come standard. Perché la legge non ci può arrivare. Sapere che stiamo parlando di persone e rispettare le persone deve essere lo standard giusto. E questo nonostante il fatto che io voglia, come dire, condizionare i comportamenti delle persone. Specie perché mi sto condizionando per qualcosa che è il mio di tornacompo e non il loro. Dalla parte opposta dello spettro, e questo è l'unico, l'ultimo tema di cui voglio parlare questa sera, c'è un'idea che è nata negli ultimi 15 anni, se non mi ricordo male, forse un po' di più, che si crea lì, che si chiama Nudge, di fatto. Nudge è l'equivalente, in inglese piccola spinta, spingarella, diciamo che può essere descritto come un incoraggiamento a fin di bene. Cosa sono quindi i Nudge? I Nudge sono elementi di interfaccia e processi progettati per promuovere e persuadere gli individui a modificare i propri interessi, il proprio comportamento, ma d'accordo con i loro interessi. Questa è già la prima differenza con i Darpatter. Quindi fin qui, ok, anche i Darpatter cambiano il comportamento delle persone, cambia solo il beneficiario. Ok, ma il Nudge non funziona solo così. Il Nudge, per definizione, per essere identificato come Nudge, deve essere, per esempio, facile da evitare. Sì, esatto, come i tasti in rosso che sono continuo, ok, scusate sto guardando in chat. Diciamo che i Nudge devono essere facili da evitare, io posso tranquillamente ignorare il Nudge e andare avanti per la mia strada se faccio le mie scelte. Non riducono quindi le opzioni disponibili. Io sempre quelle cose posso fare. E non impattano sugli incentivi economici. Non ti faccio pagare più, non ti faccio pagare di meno. Quello che sto facendo è che ti sto dando un consiglio da amico che tu puoi tranquillamente ignorare. Per sua definizione, quindi, il Nudge ha solo obiettivo utilizzare l'architettura delle scelte in maniera etica, positiva e beneficio alla società. Ora, dire etica, positiva e beneficio alla società è difficile perché può essere sempre soggettivo come concetto, però l'approccio di questo modo di ragionare, di questo modo di influenzare le persone è estremamente diverso. Su questo volevo farvi degli esempi. Cosa vedete qua? Questo è il più classico esempio del Nudge. Se cercate Nudge su internet, questo è il primo che viene fuori. Perché? Perché anni fa l'aeroporto di Amsterdam aveva un problema con gli orinatori maschili, dei maschili, che erano molto sporchi. Quindi dovevano decidere cosa fare, no? Dovevano decidere se aumentare i turni dei genitor, degli serventi di pulizia, se aumentare il numero di orinatori, se cambiare e usare i water normali, eccetera. Alla fine hanno risolto ogni problema così. Cioè, cosa hanno fatto? Hanno disegnato una piccola mosca sulla ceramica dell'orinatorio? Perché così le persone andavano lì e miravano. Miravano, ci entravano il buco, ridotto lo spreco, ridotto il spreco, ridotto la sporcizia, problema risolto. Perché questo è il classico Nudge? Perché lo posso evitare. In questo caso letteralmente lo posso evitare. Perché non mi stanno obbligando a fare cose, non mi stanno punendo se pulisco. Sì, fa molto ridere. Ma sfrutta uno di quelli che sono, e si chiamano bias, anche se si sarebbe discute per ore e quindi li sto tenendo fuori, che sono bias dei nostri ragionamenti, quindi dei piccoli preconcetti che abbiamo, per invogliarci a fare qualcosa che alla fin della fiera, però, serve anche a noi, no? Per garantire che il bagno sia pulito. Gli ambiti quindi Nudge, però, sono un po' più piccoli rispetto a quelli del del path. Perché? Perché se non ti voglio obbligare, ma ti voglio suggerire, magari non ha lo stesso impatto che potrei avere distruttivo nei casi del path. Nello specifico ci sono cinque ambiti in cui i Nudge eccellono. Ve li racconto perché così, nei momenti in cui trovate a doverli affrontare, magari vi torno in mente e provate a ragionare un po' diversamente per trovare una soluzione. E questi cinque ambiti sono la creazione di un default che sia smart, però. Quindi una soluzione di base del problema che sia io non faccio niente è quella. La creazione di reminder, la creazione di agire sulla rilevanza di quello che sto facendo, agire sui feedback di quello che sto facendo, darmi degli incentivi non economici. Vi faccio degli esempi su come si applicano. Smart default. Nel momento in cui sto guidando e il telefono si accorge, mi toglie le notifiche. Perché? Perché sto guidando. Se voglio le riabilito, se voglio il telefono lo guardo. Diciamo che il telefono smette di dire un premio in scatola perché ha capito che sto guidando. Questo è un default, no? Cosa succede quando guido? Default, mi silenzio. Un altro caso, quello dello smartwatch. Lo smartwatch è interessante perché avendo accesso ai dati biometrici si può permettere ogni tanto di guardare il risultato a troppo tempo. Perché te lo dice? Mica perché sei pigro. Tu dice perché ci sono degli studi che dicono che effettivamente il risultato per troppo tempo non è sano, no? Quindi tanto conviene alzarsi, sgrantissi le gambe, eccetera. Come lo faccio? Con un piccolo reminder, piccolo che dice è tempo di alzarsi. Vuoi alzarti? Ti alzi. Non vuoi alzarti? Non ti alzi. Quando ti sei però alzato, ti sei mosso abbastanza, ti dà un feedback. E dice bravo, hai fatto, hai raggiunto un tot movimento questo giorno per cui, secondo l'organizzazione di modalità, questa giornata l'hai fatta bene. Anche qui, completamente evitabili. Semplicemente ce li ho lì. Poi sono, tra l'altro, evitabili anche dalle opzioni. Semplicemente sono presettate, ma pure per cancellare. Caso tre, questa volta Google Mail sempre. In tema di reminder, in tema di rilevanza. Cosa vi sto facendo vedere? Vi sto facendo vedere, a sinistra, un'altra delle opzioni per cui Google dovrebbe probabilmente ricevere una statua, che è quella di, per cui Google, perlomeno da desktop, su mail, ma non credo da browser, nel momento in cui capisce che tu nella tua mail hai scritto la parola allegato e dovresti mandare un allegato e non l'hai effettivamente allegato, tu dice, ma sei proprio sicuro di voler mandare questa mail? Perché ho capito che devi allegare qualcosa. E quindi dici, ah ok, torno in sistema 2, alleggo l'allegato, faccio un via. Il secondo esempio, per esempio, è un tema di rilevanza. Cosa succede? Su Google è un'impostazione che puoi inserire. Nel momento in cui tu hai ricevuto una mail, un po' a tempo fa, che magari Google pensa che richiede una risposta, perché ha guardato, c'erano dei punti di domanda, quindi richiede una risposta, tu cosa fa? Te la metti in alto nell'elenco delle mail, quelle da leggere, così, e dice, l'hai ricevuta tre giorni fa, puoi rispondere? Tu puoi ignorarla, puoi fare quello che ti pare, ti ha dato, ha cambiato la rilevanza degli oggetti per farti ricordare che c'è quella roba lì. Per esempio, è quello che succede quando mi è arrivato il momento di scaricare 730 ai sistemi aziendali e quello è il primo link. Non è che mi fai un favore, perché io entro per sbaglio nel portale e ha già giusto devo fare questa cosa. Tra l'altro è interessante perché Nudge è il nome della blocco di opzioni che puoi usare su Google Mail per abilitare questi setting, giusto perché è così. Caso quattro, il sistema dei feedback, quello che adesso fanno i Bancomat, no? Nel momento in cui scegli di non stampare lo scontrino ti dicono, guarda, che questa è la scelta più ecologica. Non mi stai forzando, non mi stai dicendo che hai inquinato per il stampato lo scontrino, come le dark party dicono, se fai questa cosa è la scelta più ecologica. I pulsanti sono tra l'altro, questi uniclietti hanno fatto molto bene, hanno anche lo stesso peso, posso decidere quello che voglio. Ultimo caso, quello degli incentivi. Questo non sono riuscito a trovare un esempio online, ma questo è proprio tipico del Nudge. Cestino per la raccolta dei mozziconi sigaretta. Per evitare che tu lo butti in giro, ti metto questo cestino, ti faccio una scelta, stupida, sull'escalciato tra Messi e Cristiano Ronaldo, tu lo metti dentro, hai la votazione. L'incentivo qual è? Io sto facendo una cosa che comunque è giusta, sto buttando la spazzatura, ma vedo crescere la votazione del mio sondaggio. E qua, sempre in ambito di incentivi, il discorso che facevo prima, no? Di mirare la mosca, perché almeno l'ho colpita. Quindi è questo l'incentivo che ricevo. Perché sono un'alternativa praticabile qui in Nudge? Perché a differenza di Dark Pattern si basano sul rispetto alla persona e alla sua capacità di scelta. Io non ti sto obbligando, sto dicendo che quella strada lì potrebbe essere interessante. Perché hanno come obiettivo, per definizione, il bene della società, non per forza il mio. Quindi cerca di essere più oggettivo. Perché l'aspetto manipolatorio non è percichivo, non ti sto dicendo devi farlo per forza. In molti casi è innocuo, no? Ti sto mettendo di fronte a un'alternativa giocosa. E quindi per quanto esistono dei dubbi etici e di morale, perché esistono anche per questi, è normale che ci siano, stiamo parlando in apposta, è possibile discuterne ed analizzare caso per caso. Conclusione, un piccolo aneddoto, così poi facciamo dieci minuti di domande. Volevo presentarmi una persona, non so se la conoscete, se la conoscete. Questo uomo è Bruno Munari. Bruno Munari è tipo un mostro sacro del design italiano, lui faceva prodotti fisici ed è stato per anni uno dei più grandi divulgatori. Sui libri sono meravigliosi, non sono tecnici per persone che fanno design, sono bellissimi, livelli consigli. Non ho mai avuto l'occasione di conoscerlo, ma una mia amica sì. Ha riuscito ad andare a una sua lezione al Politecnico di Venezia, credo, e alla fine di andare lì e farsi fare tipo l'autografo. Munari gli ha chiesto che mestiere facesse, gli ha detto sono una designer, e Munari di fianco, cioè sotto l'autografo, gli ha anche disegnato un coltello. Quindi un po' creepy, ma ok. Perché? Perché di fianco a questo coltello c'è scritto una frase che mi ricorderò sempre, che la prima frase è questa, il designer design è un'arma. Perché il design è un'arma? Perché di fatto quando noi prendiamo delle decisioni sull'interfaccia, su come le persone debbano agire sugli oggetti, stiamo decidendo per loro se questa cosa sarà facile o difficile. Può dipendere dalla nostra competenza, può dipendere dal lavoro che facciamo, ma anche no. Io ripeto, sono un ingegnere informatico, per cui vengo da lì. Il problema è che comunque nei momenti in cui noi prendiamo delle scelte, quello che stiamo facendo è dare indicazione alle persone e agire sulle loro persone. Quindi parlare di manipolazione certamente è brutto. C'è modo di capire se possiamo farlo per il bene, perché forse forse con il ruolo che adesso ha il design, con il ruolo che adesso hanno gli stemi informatici, ogni tanto può valer la pena di chiedere ai nostri utenti di fare un po' di sforzo, anche se magari gli chiamo solo di prendere la mira. Grazie. E quindi adesso domande. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Allora, è arrivata una durante il webinar. A quali articoli del GDPR si riferisce nella lezione? Possiamo un po' tornare... L'ho presi, non li ho citati qui, me lo segno. Adesso non so nelle luce se normalmente io posso poi lasciare la presentazione e questa sarà disponibile. Sì, sì. Se non ti dispiace me la segno. Ok, perfetto. Tanto noi caricheremo, ripeto come sempre, noi caricheremo la registrazione del webinar domani mattina e all'interno della descrizione troverete anche il PDF che Paolo ha condiviso questa sera. Esatto, quindi se non vi dispiace ve lo aggiungo. Li avevo trovati? Grazie, grazie per la domanda. Così la prossima volta gli aggiungo il segno perché sono molto importanti. Allora, intanto aspettiamo le domande. Volevo chiederti, puoi farci... è una mia domanda personale. Per quanto riguarda i cookie, se puoi un po' riprendere un po' l'argomento, come devono essere la richiesta di informativa sui cookie, cioè la best practice? Allora, il concetto di best practice non c'è, allora c'è una normativa, quindi la normativa è le persone devono essere in grado di potermi dire voglio lasciarti i miei dati per avere pieno il tuo servizio, cosciente di quello che sta succedendo. Se devo guardare questa pagina e devo pensare a quanto normalmente al giornale.itarepubblica.it, comunque entità che hanno un certo grado di autorevolezza, debba lasciare i miei dati, tipicamente quello che farei io è invertire completamente la priorità e il peso degli oggetti. Non c'è nessun motivo per cui io voglio cedere dei dati a tutti i siti, per cui non accetta ai chiudi di essere il pulsante quello bello verde, bello visibile. Più opzioni può rimanere un pulsante secondario, accetto il pulsante secondario, è un pulsante molto indietro. Ok, vediamo se c'è qualche… grazie, scusami. Però io ragiono così, io ragiono dal punto di vista dell'utente, no? Certo. Ho la voce dell'utente in termini. Non per forza tutti e tre identici, Marco. Scusami, io tendo a… Ho la domanda che ai tasti non dovrebbero essere tutti e tre identici. Ai tasti sono tutti e tre identici se vuoi dare a tutti e tre i tasti lo stesso peso. Nella realtà dei fatti, se tu ragioni come utente, quello che io voglio è andare avanti senza darti i miei dati, perché in questo caso non mi servono. Servono a te per farti le tue profilazioni. Quindi sì, possono essere tutti uguali, ma se devo ragionare come utente, no. La mia azione vera è quella di, senti, fammi andare a vedere gli articoli e non prenderti i miei dati perché sto facendo altro. Ok, andiamo… Però vedi, è un tema di discussione questo. Perfetto. Paolo, scusami, vai pure nella sezione domande? Oddio. Sotto? Ok. Vedi chat e domande? Oh sì, grazie. Se vuoi partire dalla fine… Oltre a stare attenti ai dark patterns, si può fare qualcosa a livello legislativo riguardo a quelli troppo aggressivi. Si sta provando. Qui entro in dinamiche che sono molto complicate, perché il tema della giurisdizione sul web è un tema spinosissimo. Perché anche se vuoi dire, se c'è un crimine sul web, qual è il municipio che se ne occupa? Quello dove c'è il server? Quello dove è il tizio che ha fatto la pagina? Quello dove è tizio che ha subito il reato. Quindi sono tre diversi, non si mettono d'accordo. Quindi si dovrebbe… La GDPR ha cominciato a fare una cosa di questo tipo, ma gli interventi legislativi sono molto complicati. Tipicamente qua è il classico caso in cui la legge ci mette tanto tempo. È più facile che ci sia una standard, che si debba creare un standard di etico tra i nuovi professionisti. Suggerimenti per approfondire gli argomenti. Allora, c'è un sito su Dark Pattern che è tipo deceptive.design. È il sito creato dal tizio che ha inventato il termine Dark Pattern, che racconta gran parte degli esempi che vedete qui, ne racconta anche altri, racconta e raccoglie anche degli altri esempi. Per quanto riguarda il Nagia, c'è un libro che è un libro classico sulla teoria del Nagin, che è quello che ha di fronte l'elefante che spinge l'elefantino. Non me lo ricordo, provo a darvi anche questo. Ok, noi inseriremo una PDF. Esatto. Quella è un buon punto di partenza, in realtà è una teoria molto esplosa, per cui se cerchi su internet trovi tutto. Ad oggi quanti Dark Pattern sono voluti e cercati e quanti inconsapevoli? Quando si parla di compagnie, di grandi aziende e di tutto quello che per esempio non è l'esempio che vi sto facendo qua su GDPR, sono cose che nascono da un'attenta analisi dei dati e dei risultati. Faccio prove e vedo che così mi funziona meglio. E questa cosa qui, capire se sia veramente voluta o perché devo raggiungere un obiettivo, sto raggiungendo, non lo so. Sicuramente però tutti i social media li usano in maniera estremamente consapevole. Tu ogni qualvolta vedi che per cancellare il tuo profilo da un servizio ci metti l'ira di Dio, è perché c'è un Dark Pattern indietro molto consapevole. Se posso trovare in agio nella vita quotidiana, se è riuscito a trovare un uso pratico, allora in realtà sì, nel senso che in agio nascono nel mondo della psicologia per il tema del behavioral change, per cui per far cambiare le abitudini alle persone. Servono anzi per le cose un po' più piccoline e funzionano sfruttando delle scorciatoie mentali che si chiamano bias che noi utilizziamo. Anche qui se cercate B-Evro Economic Bias, provo a darvi anche questo link, ce ne sono un sacco e per ognuno ti dà qualche esempio. L'uso pratico c'è, non fosse altro elementi simili sulla pulizia da tenere in casa. Io personalmente non li sto usando perché sono pigro, ma molto pigro, però esistono tanti e provo a capire. Lettura consiglia a riguardo per Guido e stesso persona degli articoli della GDPR? Sì, tanto li ho un po' assegnati, quindi secondo me ci sono. Ok, allora vediamo se ci sono altre domande. In attesa. Ecco, forse ce n'è un'altra. Ecco, sempre nella sezione domande Paolo e Alfredo. Allora, che strategie usi per ridurre la complessità dei flussi? Cioè la domanda è, ok, io posso ridurre un flusso, arrivo a quindi dare una risposta meno sofisticata e poi però posso chiedere all'utente se vuole andare avanti e quindi la cosa diventa più sofisticata. La risposta è esattamente questa. C'è una tecnica che viene utilizzata nel mondo del design, che è quella della progressive disclosure, che si usa nell'architettura informativa e quindi nel farti leggere dei dati, che di fatto funziona così. Ti do dell'informazione di alto livello, una volta che hai capito che ti interessa e ne vuoi approfondire, ti permette di andare avanti. Nell'esempio che ti facevo prima, quello di capire, avere un preventivo corretto quando la configurazione di un contatore è molto complicata. La strategia è proprio quella. Cioè tendo a darti una risposta prima possibile. Quanto costa? Tra i 150 e i 300 euro. Dipende però da una serie di cose. Vuoi sapere di più? Sì. Ah, tipo, allora cosa devi fare? Ah sì, se una casa è un ufficio, una casa, allora tipicamente il raggio è quest'altro. E poi man mano terza domanda è qual è il kilowattaggio esatto tra 0,2 e 0,3 e 0,4. Però il concetto è proprio quello. I flussi sofisticati non sono un male di per sé. Il problema è quando ho del valore da quel flusso. Se arrivo alla fine, avere il valore per la prima volta, il rischio di drop è troppo elevato. Elisa. Di un'azienda fondamentale è raccogliere i più dati possibili. Sono utilizzando queste tecniche che riescono a raccogliere e si dimezzano. Un metodo secondo te che potrebbe risolvere questa situazione? Allora, capisco dal punto di vista di un'azienda fondamentale raccogliere i più dati possibili, come anche raccogliere più dei miei soldi possibili, ma i soldi sono miei saranno anche a fare i miei se tu do. Quindi c'è il contraltare della domanda lecitina la tua, ok? È questa, no? Il tema dei dati è un tema molto sofisticato e molto complesso, perché tu magari stai parlando di dati che servono all'azienda per profilare i propri clienti e per dare un servizio migliore. Nel realtà, di fatti, molti dei dati che vengono raccolti così sono dati che poi hanno dato il present broker, insieme a altri dati, perché hanno un valore in sé. Quindi il punto è che si deve anche accettare il fatto che non ho il diritto come azienda di raccogliere tutti i dati che vorrei. Questo, io però sono un designer e questo vincolo lo vedo come un punto di creatività. I designer, quando devono essere creativi, si creano dei vincoli, perché è sul vincolo che vogliamo fare creatività. Quindi non si utilizzano magari queste tecniche. Secondo me l'approccio potrebbe essere estremamente diverso, cioè si deve prendere il problema da un altro punto di vista e sicuramente se dovrarti una risposta facile è se tu mi stai dando dei dati è perché li stai usando per davvero e mi dagli il valore per l'uso davvero che ne fai. Ok. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Mi spiace, non sono sicuro, è preciso di così. Paolo, siamo quasi al termine. Io ti ringrazio. Se non ci sono altre domande andrei alla chiusura del webinar. Vi invito come sempre a rivedere il webinar di questa sera che sarà attivo sul nostro canale YouTube da domani mattina e ci sarà anche il PDF della presentazione di Paolo. È stato molto interessante. Vi invito anche a consultare le offerte di lavoro di Entity Data su Rete Informatica Lavoro. Seguiteci sui nostri canali social. Detto questo io ringrazio tutto Paolo. Sei stato gentilissimo. La tua presentazione è stata eccezionale, è stata interessantissima. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille, buona serata.